Preto la parola in relazione ad un contesto temporale, precisamente il settembre-ottobre del 1993, allorquando in assenza di un partito politico in grado di interlocuire direttamente con le sue richieste, i vertici di Cosa Nostra decisero come prima opzione di proporsi come forza politica, tutta siciliana e tutta mafiosa. A tal proposito è estremamente illuminante il pensiero di Bagarella, riportato dal collaboratore di giustizia Tullio Cannella all'udienza del 12 dicembre del 2014, pagine 29 e 30 della trascrizione. Mi limito a leggere brevissimi passaggi. Bagarella era sfiduciato e deluso dei politici che Cosa Nostra aveva aiutato nel tempo e, a differenza del Cognatorina, che era stato troppo magnanimo e troppo buono, diceva che in futuro non dobbiamo più correre il rischio che i politici possano voltarci le spalle. Se i politici assumono degli impegni con me, devono rispettarli. Io non sono così facile da farmi prendere in giro o farmi giocare. Ebbè, l'obiettivo strategico era costruire le premesse per un nuovo rapporto con la politica, perché, come diceva sempre Bagarella, fosse Cosa Nostra in quel momento ad esprimere direttamente le scelte politiche attraverso i suoi uomini, senza alcuna mediazione. Annullare la politica e i politici tradizionali per favorire l'ingresso della mafia in politica tucur. Le stragi, dunque, costituirono la premessa necessaria della ristrutturazione dello scambio dialettico con la politica. Bagarella all'inizio pensava di rifondare il rapporto con la politica tramite il progetto separatista di Sicilia Libera, un movimento di diretta espressione della mafia per conquistare un più immediato controllo della politica e al cui interno gli uomini d'onore potessero direttamente o quasi far sentire la loro voce ed imporre i loro voleri. L'esperienza politica del Movimento Sicilia Libera, nata secondo le indicazioni di Leonardo Messina, dopo le riunioni a Enna dei primi anni 90, nell'ambito dell'obiettivo ambizioso della nascita e sviluppo delle leghe territoriali ispirate al progetto federalista, è stata esaurientemente illustrata, l'esperienza, da Tullio Cannella, protagonista diretto di tale vicenda perché incaricato personalmente da Leo Luca Bagarella. Tullio Cannella è nato e cresciuto nel quartiere palermitano di Brancaccio, dove aveva svolto l'attività di piccolo imprenditore ma anche l'attività di politicante locale nelle fila della democrazia cristiana, quale dirigente del movimento giovanile e membro del consiglio comunale di quartiere. Proprio questa sua spiccata e naturale prededizione per la politica, fin dagli anni giovanili, costituisce il tratto saliente, il metro di valutazione della sua collaborazione, proprio perché è esperto in questo campo, in questo settore. Cannella ha descritto i suoi rapporti sin dagli anni Ottanta con i fratelli Graviano, per conto dei quali aveva realizzato il complesso residenziale Euromare a Campo Felice di Roccella, ha ricostruito la conoscenza nel maggio del 1993 con Leo Luca Bagarella e poco dopo con Tony Calvaruso, che nello stesso tempo aveva curato anche lì la latitanza del Bagarella, con il quale Calvaruso è stato arrestato il 24 giugno del 1995. Quando a metà giugno del 1993 Cannella aveva ospitato Bagarella nel villaggio Romare, i rapporti si erano molto intensificati, divenendo molto confidenziali al punto che aveva rivelato i suoi trascorsi politici nella circoscrizione della DC a Brancaccio sin dalla metà degli anni Settanta, nonché le conoscenze che aveva maturato in tale campo. Bagarella le aveva più volte manifestato nelle quotidiane conversazioni di tale argomento la sua sfiducia nei confronti di molti esponenti politici, prevalentemente della DC, perché non avevano mantenuto i loro impegni, nonostante l'appoggio elettorale e la protezione di Cosa Nostra, ragione per cui lo aveva incaricato, avvalendosi della sua esperienza politica, di fondare un nuovo movimento di carattere politico, cui Bagarella avrebbe assicurato sostegno economico e soprattutto i suoi contatti e le sue relazioni. Era così maturata l'idea di Sicilia Libera, che venne costituita formalmente nei primi giorni di ottobre del 1993, tra i cui fondatori vi era l'Abu Edoardo, soggetto massone, molto ben inserito negli ambienti palermitani di imprenditori e vecchi nobili. Sicilia Libera aveva la finalità di rappresentare direttamente gli interessi di Cosa Nostra e presentava una vocazione prettamente separatista. Bagarella le aveva fatto capire che non dispiaceva affatto l'ipotesi di una separazione della nazione quale proposta dalla Rega Nord, in quanto in tal modo Cosa Nostra avrebbe potuto gestire autonomamente il Sud Italia. Nell'ambito di tale progetto aveva intrattenuto rapporti e contatti con tutta una serie di soggetti che abbiamo già visto nei precedenti interventi erano stati coinvolti nei movimenti leghisti del Sud, come Antonino Strano, Giuseppe Di Pera, Ferdinando Platania, Gaspare Di Paola, tutti che poi vedremo aderiranno a Forza Italia, riversando il bacino elettorale di tali movimenti nella nuova forza politica. Nell'ottobre 1993, quando costituì ufficialmente Sicilia Libera a Palermo, Bagarella era già perfettamente a conoscenza che era in cantiere la discesa in campo di Silvio Berlusconi, racconta sempre il collaboratore, a capo di un nuovo movimento politico che avrebbe loro assicurato, in virtù di impegni preesistenti, di risolvere le questioni che più interessavano a Cosa Nostra, la legge sui pentiti, il carcere duro, la normativa antimafia. Ha precisato di aver avuto contatti per tale iniziativa politica con Giovanni Busca, che gli aveva presentato Salvatore Cintola di Partinico, a Trapani aveva incontrato sempre su indicazione di Bagarella Vincenzo Virga, che gli aveva presentato il senatore Giuseppe Berricone. Bagarella, tramite i fratelli Graviano, gli aveva richiesto di incontrare anche il senatore Inzerillo, cosa che aveva fatto in diverse circostanze per poi prenderne le distanze, sempre su decisione di Bagarella, profondamente deluso dall'atteggiamento dell'esponente politico, che avrebbe dovuto parlare, secondo Bagarella, un'altra lingua. I primi del mese di dicembre del 1993, Bagarella iniziò a mostrare delle perplessità sull'efficacia dell'operazione iniziata con Sicilia Libera, facendoli chiaramente intendere che non voleva più finanziare il movimento, tanto che lo invitò a tesserare gli iscritti per recuperare dei fondi. Bagarella gli disse che loro avevano deciso di appoggiare la neoformazione politica di Forza Italia, in quanto vi erano parole testuali, degli agganci. A seguito di tale comunicazione, il Bagarella aveva fondato unitamente alla Vua un club di Forza Italia all'interno di Sicilia Libera, in quanto egli in la Vua volevano vedere ed inserire dei loro candidati all'interno del Polo delle Libertà, ma ciò non è stato, non fu possibile. Ebbene, l'attenibilità del racconto di Cannella, in merito all'esperienza serpubreve di Sicilia Libera, è stata confermata dalle precise e convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, che non sto a ripetere, nell'intervento del Dottor Tattaglia sono stati già analiticamente indicati, ovvero i palermitani Rosario Naimo e Giovanni Brusca, ma anche i trapanesi Giuseppe Ferro e Vincenzo Senagori. Nonché dagli accertamenti esposti dai testi fonti all'udienza del 25 settembre 2015 e Serafini all'udienza del 22 ottobre del 2015, richiamando l'annotazione della DIA del 31 gennaio del 1998 acquisita al fascicolo del dibattimento il 22 ottobre 2015 con il consenso delle fatte. Ebbene, questi elementi, queste fonti dichiarative, ma anche documentali, gli accertamenti di fonti e serativi confermano integralmente giorno per giorno quella che è stata l'esperienza di Sicilia Libera e le indicazioni di Cannella. Però permettetemi, le dichiarazioni di Cannella hanno rilevanza per altri profili più specifici, più diretti alla nostra imputazione. Prima circostanza, il coinvolgimento e quindi l'iniziativa e poi l'abbandono del progetto politico da parte di un esponente di primo piano di Cosa Nostra come Leo Luca Bagarella. Poi vedremo perché questi quattro punti sono rilevanti. Secondo, in occasione della presentazione ufficiale alla fine del 93 del Movimento, i fratelli Graviano avevano messo a disposizione tramite Gianni Enna, costruttore di loro fiducia, l'hotel San Paolo Palace di Via Messina Marine. Ha ricordato che quando si ricordò da Filippo Graviano per saldare la fattura della convention di Sicilia Libera al predetto hotel, Filippo Graviano, lo invitò a desistere da quell'impegno. Gli disse che era inutile quell'iniziativa politica perché gli agganci potenti con esponenti politici li avevano loro i Graviano, erano loro che si occupavano di politica per risolvere i problemi di Cosa Nostra, quali la legislazione dei collaboratori di giustizia. Attenzione, pensateci, anticipiamo un tema che sarà approfondito successivamente. Si tratta questa affermazione di Cannella, di un'affermazione che si coniuga perfettamente con quella di Spatuzza in merito alle confidenze nell'autunno del 93 nel villaggio romare alla presenza anche di Cosimo Lonigro di Giuseppe Graviano. Che cosa ebbe a dire Giuseppe Graviano in quella circostanza a quei due soggetti presenti? Visto che lui era esperto di politica, testualmente, c'è in piedi una situazione che se andrà a buon fine ne avremo tutti dei benefici a partire dai carcerati. Dunque, secondo punto, ci dimostra come i Graviano siano coinvolti in Sicilia Libera, tanto da aver messo a disposizione il loro hotel per la convention, ma soprattutto perché sono loro che hanno gli agganci politici. Terzo punto, Cannella ha riferito che circa 15 giorni prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali inerenti alle consultazioni del marzo del 1994, si rivolse al Bagarella per avere la possibilità di inserire un candidato di Sicilia Libera nelle liste del Polo delle Libertà. Bagarella gli disse che lo avrebbe messo in contatto con una persona in grado di ordinare parole testuali del collaboratore a Gianfranco Miciche, che si occupava della formazione delle liste in Sicilia, l'inserimento di un determinato soggetto nella lista dei candidati del Polo della Libertà per l'elezione del marzo del 1994. Egli aveva pensato, e qua il collaboratore diceva, ho fatto un peccato, insomma, che si trattasse di Marcedo Dell'Utri, invece venne da lui Antonio Calvarusso, il quale gli disse che la persona che avrebbe incontrato era Vittorio Mangano, circostanza poi che non si è rivelata. Dunque il terzo punto ci dimostra come esperto di politica anche nell'ambito di Sicilia Libera e Vittorio Mangano. Quarto punto. E qui poi, per l'odierno processo, la principale rilevanza del contributo di Cannetta. Contributo che, vedremo, verrà integralmente confermato da Calvarusso, poi vedremo deposizione riportata nella sentenza a carico del senatore Dell'Utri. Ebbene, si tratta di un episodio che ha visto come protagonista diretto Cesare Lupo e in diretto proprio l'imputato Marcello Dell'Utri, emerso nell'ambito delle indagini successive all'arresto dei fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, avvenuto il 27 gennaio del 1994 ad opera dei carabinieri nel nucleo operativo di Palermo all'interno della trattoria Gigi il Calciatore a Milano. Giuseppe e Filippo Graviano si trovavano allora in stato di latitanza, essendosi sottratti a diverse ordinanze di custodia cautelare emesse dall'autorità giudiziaria di Palermo dal 1993. Cannella ha rievocato una visita all'inizio del 1994 presso il suo ufficio di Cesare Lupo, esponente mafioso del mandamento di Brancaccio e persona di assoluta fiducia dei fratelli Graviano. Lupo lo aveva invitato in caso di convocazione dei carabinieri che stavano indagando per ricostruire la rete dei favoreggiatori di Graviano dopo il loro arresto a Milano, circostanza vera perché era stato sentito, dice il collaboratore, il cognato Fabio Tanchina, a non fare alcun riferimento al nominativo di Dell'Utri alludendo ad una spiacevole reazione dei Graviano in caso di risposta sbagliata. Che cosa ci dice Cannella? Che va da lui Cesare Lupo, persona di assoluta fiducia, e gli dice attenzione qualora dovessero sentirti i carabinieri mi raccomando racconta tutto quello che vuoi, ma non ti azzardare, nel vero senso della parola, a parlare di Dell'Utri perché i Graviano si arrabbiano e quando i mafiosi si arrabbiano le conseguenze sapete quali sono. A fronte della risposta di Cannella di non conoscere Dell'Utri il collaboratore ha ricordato la sorpresa di Lupo che disse di essere convinto invece diversamente proprio perché Cannella l'aveva incontrato e frequentato nell'ambito dell'esperienza di Sicilia Libera, spiegando che i Graviano avevano un forte interesse nei confronti di Dell'Utri con il quale intrattenevano rapporti diretti arrivando a dire il collaboratore che a Milano per effetto di tale conoscenza erano casa e putia con Dell'Utri. Cannella aveva riportato le confidenze di Lupo a Bagarella che dopo aver duramente criticato la scarsa riservatezza di Lupo aveva confermato la circostanza della conoscenza fra Graviano e Dell'Utri. Questo è l'episodio. Calvaruzzo, così come riportato nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo del 2012 nell'ambito del processo a carico del senatore Dell'Utri, ha confermato che Cesare Lupo, compare di Giuseppe e Graviano, si era recato da Cannella dicendogli che suo cognato Fabio Tranchina era stato sentito dai carabinieri invitandolo a non fare il nome di Dell'Utri, qualora fosse stato interrogato dagli investigatori nell'ambito dell'inchiesta sulla latitanza dei Graviano. Il mendacio era spiegabile nell'ottica di tenere separato Dell'Utri da qualsiasi ambiente mafioso all'indomani dell'arresto dei fratelli Graviano, arresto seguito dall'iniziativa Palermo di Lupo volta allo stesso scopo, ad ottenere cioè che non si parlasse dei rapporti di Dell'Utri con i Graviano. Ma ancora più rilevanti sono alcuni elementi individualizzanti che riguardano specificamente Marcello Dell'Utri e che emergono oggettivamente nella vicenda di Sicilia Libera. Si ricavano in particolare da appunti sequestrati allo stesso Dell'Utri. Segnatamente nei quaderni d'appunti Labor, Labor, Romnia, Vincit, alla data del 20 gennaio del 1994 è riportata l'annotazione Platania Lega Sicilia Libera, visto spot immagini delle città. Si fermano a Roma con due numeri di telefono annotati 095 37 73 72 intestata a Ganci Carmela di Catania e l'utenza 38 36 26 intestata a Francaviglia Maria Cristina guarda caso moglie di Platania Ferdinando. A dimostrazione che in quel periodo Dell'Utri aveva avuto contatti e rapporti. Dimitiamoci a dire per Sicilia Libera. Benissimo. Nell'ambito di Sicilia Libera con Platania. Ricorderete dalle indicazioni del dottor Tattaglia chi era Platania e come era considerato Platania nell'ambito di Cosa Nostra. E allora? Dalle dichiarazioni dei collaboratori e delle altre prove raccolte al riscontro è emerso, che risponde certamente al vero e come dichiarato da Cannella nel 93 dopo l'arresto di Irina, Leo Luca Bagarella tentò di costituire tramite Cannella un movimento politico Sicilia Libera che fosse diretta espressione di Cosa Nostra. Un partito vassallo di Cosa Nostra che si sarebbe dovuto occupare degli interessi dell'organizzazione mafiosa in politica. Ancora, in questa esperienza risulta provato il coinvolgimento dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, di Vittorio Mangano. Infine, secondo le convergenti dichiarazioni di Cannella e Calvaruso, era emersa anche la figura di Marcello Dell'Utri, proprio con riferimento all'episodio di Lupo. Insomma, nell'autunno del 1993 si è delineata la rete di relazioni, Bagarella-Mangano-Graviano Dell'Utri, che sarà l'asse portante della condotta intimidatoria del 1994. Quello che noi contestiamo non nasce improvvisamente, e ora lo spiegheremo, ma è frutto di una serie di rapporti, incontri che arriveranno a quella sede. Cioè, già Sicilia Libera ha in sé tutti i protagonisti di quella che è la condotta del 338 contestata agli dirgli imputati. Bagarella, alla fine del 1993, si è trovato dinanzi a due strade politiche alternative. Patrocinare una nuova iniziativa politica più ampia, non semplicemente la riesumazione del vecchio separatismo siciliano, che nel tentativo di disarticolare il vecchio quadro politico-istituzionale da realizzare ancora mediante la prosecuzione della stagione strategista serviva a destabilizzare, e che prevedeva la trasformazione dello Stato unitario in una nuova forma di Stato, che contemplava la rottura dell'unità nazionale, la divisione dell'Italia in più Stati o macro-regioni, ed eventualmente la creazione di uno Stato autonomo nel Sud, con prerogative di sovranità, che avrebbe consentito di monopolizzare la gestione politica degli interessi economici leciti ed illeciti, trasformando questa parte del Paese in una sorta di zona franca, governata da soggetti espressioni di Cosa Nostra. Bagarella non voleva ripetere l'errore del cognato, cioè dare troppa fiducia ai politici, perché valutava di conservarsi la carta di un movimento politico in cui manovrare in anticipo liste e candidature, intervenire direttamente sui processi decisionali nazionali, in cui Cosa Nostra fosse presente in prima persona, con l'obiettivo di essere interlocutore ufficiale di altri partiti, di altri movimenti politici, che erano prossimi ad entrare nel lagone politico. Ed ecco la ragione di Sicilia Libera è molto istruttivo, oltre che in linea con lo scopo di tale iniziativa che vedeva tra i suoi promotori, come si ricava dall'atto costitutivo, giornalisti, impiegati, funzionari di banca, presidi di scuola, scorrere l'oggetto sociale indicato nello statuto acquisito al dibattimento. Ebbene, vedrete, inserirsi in competizioni elettorali locali, provinciali, regionali, nazionali, avere propri rappresentanti negli organismi pubblici, al Comune, alla provincia, alla ragione, alla Camera dei Deputati e al Senato, promuovere iniziative riguardanti la problematica della giustizia e delle esigenze delle carceri italiane per una maggiore umanizzazione. Indubbiamente possono cogliersi, pur nella genericità e ogni comprensività dei fini enunciati, gli aspetti salienti che stavano a cuore a Cosa Nostra, rappresentati essenzialmente dalla promozione e intervento nelle competizioni elettorali di qualsiasi livello, dalle iniziative riguardanti la giustizia, e non è difficile immaginare quali, e dalle situazioni carcerarie da incanare verso una maggiore umanizzazione, obiettivi mimetizzati ad arte, che non riescono a celare la loro finalità simulatori e di copertura. L'ufficialità del Movimento era un mezzo per contettare in via del tutto tranquilla diversi uomini politici già vicini all'organizzazione, e quindi intessere rapporti anche telefonici con esponenti politici, o che lo diventeranno a seguito delle elezioni politiche del 1994. Circostanza, guarda caso, che riguarda l'imputato dell'Utre, come si ricava dall'appunto del 20 gennaio del 1994 con il nominativo e l'utenze telefoniche di Platania, raggiungendo dunque così l'obiettivo prefissato. Ma il progetto fu accantonato, non abbandonato, spiega Cannella, riportando il pensiero di Bagarella, perché presentava una vocazione troppo regionalistica e localistica, laddove Cosa Nostra, in pieno delirio di onnipotenza, dopo le stragi del 92 e del 93, pretendeva che le iniziative a suo favore avessero rilievo nazionale. In più, vi era un'esigenza di natura pratica, in quanto il progetto indipendentista richiedeva ancora un lungo periodo di attuazione, mentre l'attualità di quel momento storico imponeva il sostegno ad una compagine politica già organizzata a livello nazionale e pronta a competere alle elezioni politiche del marzo del 94. Per soddisfare tale esigenza, Bagarella, a conoscenza fin dall'autunno del 93 della discesa in campo di Berlusconi, opera una scelta di maggiore realismo e opportunismo, decide di non sostenere più Sicilia Libera alle elezioni del 94 e opta, confortato dalle assicurazioni dei fratelli Graviano, sulla figura di Marcello Dell'Udri, per il sostegno elettorale di Forza Italia, ove di fatto Sicilia Libera concluisce. Basti considerare che i comitati di Sicilia Libera si fonderanno nei club di Forza Italia anche per effetto della convergenza di obiettivi e di finalità. Una volta che Marcello Dell'Udri si è proposto, è questo dunque il canale che i vertici di Cosa Nostra hanno deciso di attivare in questo torno di tempo, per riprendere il dialogo a distanza perché l'obiettivo finale non era stato ancora raggiunto. Sì perché i canali di dialogo degli anni 92 e 93, non autorizzato dalle leggi dello Stato e lo ripeto, non autorizzato dalle leggi dello Stato e finalizzato alla concessione di benefici per l'organizzazione mafiosa in cambio dell'interruzione della strategia stragista, aveva ingenerato in Bagarella, Brusca, Graviano, subito dopo l'arresto di Rina, la convinzione che gli attentati eclatanti pagavano e quindi le minacce dovevano essere rinnovate in quanto funzionale applicato. Ebbene, in questo contesto politico caratterizzato dalla presenza di un governo tecnico molto debole, si è verificato, come già abbiamo analizzato, nel novembre del 93 il cedimento dello Stato, consistito nell'inopinata mancata proroga di oltre 303 decreti di applicazione del regime detentivo di cui all'articolo 41 bis. Tanto più grave e deprecabile perché veniva incontro ai desiderati di Cosa Nostra e perché interveniva in una fase molto critica per l'ordine pubblico e per la nostra democrazia. Tale cedimento, se costituì un segnale di distensione, peraltro letteralmente auspicato nella nota che il capo del DAP Capriotti indirizzava al ministro della giustizia Conso in data 26 giugno 93, certamente non bastò, non poteva bastare a Cosa Nostra, che mirando ad ottenere garanzie più ampie a tutto campo, aveva obiettivi più ambiziosi e duraturi, come indicati nel papello, non limitati al solo ottenimento di benefici nel trattamento penitenziario, ma estesi anche al versante della legislazione penale antimafia, segnatamente in merito alla modifica della normativa sui collaboratori di giustizia e sui sequestri di persone. I capi di Cosa Nostra avevano deciso di insistere nella realizzazione del folle piano di attentati e occorreva individuare il nuovo canale cui trasmettere il messaggio quartativo che per funzionare doveva essere necessariamente e chiaramente decifrato dai destinatari. Il canale costituito da Dell'Utri è stato scelto per la stretta vicinanza a Berlusconi nel momento in cui a Cosa Nostra era nota la discesa in campo dell'imprenditore milanese anche perché Dell'Utri era un soggetto influente che in passato aveva dato ampia prova di sé dimostrandosi disponibile verso Cosa Nostra. Infatti la figura di Dell'Utri come nuovo autorevole interlocutore nel dialogo a distanza di Cosa Nostra non esce fuori improvvisamente dal cilindro ma si afferma e si propone per effetto di pregressi con le adauti rapporti risalenti fin dagli anni 70 con esponenti apicali di Cosa Nostra come consacrato nelle sentenze irrevocabili di condanna a suo carico emesse dalla Corte di Cassazione in data 9 mazzo 2012 e 9 maggio 2014 per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre, e qua lo sottolineiamo, per il periodo successivo al 1992 l'imputato è stato assolto dalla suddetta contestazione nella forma del patto politico mafioso. Ebbene, che cosa c'è scritto in quelle motivazioni? Qualcuno le ha mai lette realmente quelle motivazioni, perché per un esponente istituzionale sono terrificanti. Io do lettura di quello che c'è scritto nelle sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Ebbene, che cosa c'è scritto? Che si era svolto nel 1974 a Milano fra Stefano Pontate, l'ultimo di Cosa Nostra, proprio uno irrilevante nel 1974, chi era Stefano Pontate, Girolamo Tenet, Teresi, sotto capo della famiglia diretta da Pontate, Francesco Di Carlo, uomo d'onore della famiglia di Altoponte, Silvio Berlusco e Marcello Dell'Utri, abbiamo detto un incontro, un incontro che era stato propiziato dall'iniziativa di Dell'Utri, il quale aveva fatto da intermediario tra i vertici di quel momento storico di Cosa Nostra palermitana e l'imprenditore milanese. Non ci stiamo inventando nulla, solo parole della Cassazione, che ci va giù pesante, dopo, ripetuto in due sentenze, anzi in totale in sei sentenze, perché ci saranno cinque sentenze, ci sarà il giudizio, non la nemmeno, la voglia. Bene, che cosa ci dice? La conclusione su base paritaria, la conclusione su base paritaria, cioè sono sullo stesso piano, i mafiosi e l'imprenditore, nel 1974 di un patto di protezione fra Berlusconi e i vertici dell'associazione mafiosa rappresentata da Bontade e Teresi, fonte, c'è scritto testualmente, di reciproci vantaggi. Il vantaggio per l'imprenditore Berlusconi della ricezione di una schermatura rispetto ad iniziative criminali, essenzialmente sequestri di persone che si paventavano ad opera di entità delinquenziali non direttamente riconducibili a Cosa Nostra Palermitana, di cui veniva in quel frangente sollecitato l'intervento, e quello patrimoniale per la conserteria mafiosa a favore della quale Berlusconi effettuava sistematici pagamenti di rilevanti somme di denaro, così monetizzando il rischio cui era esposto. Dunque la Cassazione ci dice che tra Dell'Utri, Berlusconi ed esponenti nel 1974 di Cosa Nostra il rapporto era paritario, non è che quella ha preso la pistola come c'aveva nelle foto e rispara perché sono dei mafiosi, no, si siede al tavolo con queste persone. L'assunzione, dice ancora la Cassazione, sto ripetendo le parole della Cassazione, non è interpretazione dei soliti pubblici ministeri, l'assunzione a Arcore di Vittorio Mangano da porre in stretta correlazione causale con l'accordo concluso costituente la risultante dei convergenti interessi di Berlusconi e Cosa Nostra Palermitana, la presenza di Mangano ad Arcore, queste sono circostanze significative per la condotta del 1994, che avrebbe dovuto dare esecuzione o comunque visibilità esterna al patto di protezione e divenuto poco tempo dopo l'assunzione ad Arcore, uomo d'onore affiliato alla famiglia mafiosa di Portanova aggregata a quella di Pontale. La telefonata del 14 febbraio del 1980 fra Dell'Utri e Mangano, quindi dal 1974 siamo passati all'80, dimostrava oltre che la trattazione di affari in comune l'assoluta cordialità dei rapporti, sono tutte circostanze importanti per un processo. L'ininterrotta prosecuzione, dice la Cassazione, dei rapporti fra Dell'Utri con esponenti mafiosi, come dimostrato dalla partecipazione del 1979 ad una cena tenutasi nella villa di Stefano Bontade, nonché la partecipazione al matrimonio di Girolamo Fauci, condannato per traffico internazionale di sostanze stupele o facenti, celebratosi a Londra il 19 aprile dell'80 che aveva visto tra gli invitati Gaetano Cina, Girolamo Tenese e Di Carlo che all'epoca era latitante. Ancora che cosa ci dice la Cassazione? I pagamenti di Berlusconi in favore di Cosa Nostra Palermitana, quale corrispettivo per la protezione a lui accordata e in attuazione dell'accordo raggiunto nel 1974 con la mediazione di Dell'Utri che si poneva quale garante del risultato, erano proseguiti senza soluzione di continuità anche dopo la scomparsa di Bontade Girolamo Teresi e il sopravvento di Rine dei Corlonesi con mutamento dell'equilibrio interni. Incaricati della riscossione in quel periodo erano i fratelli Giovan Battista e Ignazio Pullarà divenuti reggenti del mandamento di Santa Maria di Gesù dopo che Bontade era stato ammazzato. Il ruolo di Cina nella riscossione delle somme di denaro materialmente consegnate da Dell'Utri nell'interesse dell'organizzazione anche quale emissario diretto del capo del sodalizio mafioso Salvatore Rina, quindi contatto diretto dopo l'estromissione dei fratelli Pullar. Questo è quanto ci dice la Cassazione, ma l'istruzione dibattimentale ha delineato la figura di Dell'Utri anche per un periodo successivo a quello indicato, abbiamo visto il 74, l'80, in merito alla vicenda degli episodi delittuosi ai danni di vari esercizi commerciali della Standa, azienda del gruppo Fininvest, di cui Dell'Utri aveva assunto la carica di consigliere di amministrazione della società, ha tentati verificatisi all'inizio degli anni 90 nella città di Catania e provincia. dagli accertamenti effettuati, se non mi sbaglio, dal test del Bonferraro, il 18 gennaio del 90, oppure ricavati dalle sentenze, non lo ricordo con precisione, 18 gennaio del 90, incendio magazzini stanta di Catania in via Etnea, angolo via San Michele, 21 gennaio del 90, incendio alla filiale stanta, sita in via Bertuccio, angolo piazza Cavour di Catania, non sviluppatosi grazie all'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, 12 febbraio del 90, incendio alla filiale stanta, sita in via Bertuccio, angolo di via Catania, scusate ma questa è una ripetizione, 13 febbraio del 90, incendio della Copat 5 di Paternò, provincia di Catania, affiliato stanta, 16 febbraio del 90, tentativo di incendio della filiale stanta di Catania di piazza risorgimento, subito domato con modesti danni. Abbiamo già visto nell'intervento del 15 dicembre del 2017 che sono stati collaboratori di giustizia catanesi, Avola, Malbagna e Di Giacomo, e non sto a ripetere le stesse dichiarazioni, ma le si tenterà inserire, a precisare tre circostanze significative in tale vicenda che occorre sottolineare. La prima, che a seguito dei suddetti attentati d'iniziativa congiunta dei palermitani e dei catanesi, era esceso in Sicilia dell'Utri che aveva raggiunto un accordo che aveva posto fine alle azioni delettuose. Secondo, l'obiettivo strategico degli attentati non era affatto limitato alla richiesta estorsiva, ma è stesso ad instaurare rapporti tramite dell'Ellutri con il gruppo Berlusconi, proprietario della stanta. Infatti è stato accertato che, secondo il progetto e le intenzioni originarie, l'obiettivo perseguito è meramente estortivo, però ad un certo punto l'obiettivo, specie dopo un proficuo scambio di idee tra i capi mafia palermitani e catanesi, che Rina ci confermerà nell'intercettazione del 22 agosto 2013, si aggiorna all'obiettivo e si ampia perché alla finalità meramente estorsiva si aggiunge un obiettivo strategico di più lungo termine e di più ampio respiro. I rapporti, i contatti, le relazioni. Terzo, la questione della stanta ha costituito uno dei motivi di frizione fra Benedetto Santa Paola, che pretendeva di conseguire un risultato economico decisamente più vantaggioso, e Salvatore Rina che invece non voleva che Dell'Ellutri fosse toccato perché proprio in funzione del consolidarsi di quel rapporto che Rina intendeva sfruttare. È stato niente di meno che lo stesso Rina, nel corso dei colloqui intercettati in carcere con il detenuto Lorusso Alberto, a fornire un riscontro davvero formidabile alle propalazioni dei collaboratori in merito alla vicenda degli attentati alla stampa di Catania. Infatti, nella conversazione del 22 agosto del 2013, e badate bene, quando l'istruzione dibattimentale doveva cominciare, avendo avuto inizio il 24 ottobre 2013, con l'esame dei testi Rino Germana e la figlia di Lima, Susanna, su temi totalmente differenti, quindi non si può dire che Rina ripeteva quello che aveva ascoltato in udienza come un pappagallo, perché forse anche quello che si vuole dire. Insomma, il 22 agosto del 2013 spontaneamente Rina dichiarava che incassava da Berlusconi, non esplicitamente menzionato ma facilmente identificabile per effetto del riferimento alla standa, la somma di 250 milioni ogni sei mesi che ha ricevuto, dice, accolto. Ancora, quando a lui si erano rivolti i catanesi in merito alla standa di Catania, ha suggerito loro di dare fuoco agli esercizi commerciali, così da indurlo a pagare come faceva con i paraermitani. Testualmente, ai catanesi dico, ma non alle stande, gli ho detto, gli ho detto, bruciali la standa, e così i catanesi hanno dato fuoco alla standa. In merito al viaggio in Sicilia di Dell'Utri per risolvere la questione della standa, secondo le dichiarazioni dei collaboratori, una conferma incontrovertibile e, ripeto, i collaboratori non erano stati ancora sentiti, Rina parla autonomamente. Ebbene, in considerazione dell'assoluta rilevanza della fonte, perché è Rina che parla, che cosa ci ridice il 22 agosto del 2013? Allora quando Rina, proseguendo il discorso sull'incendio alla standa, per suo ordine, riferiva che quello, il proprietario della standa, ovvero Berlusconi, ha mandato a lui, è venuto il palermitano, è sceso il palermitano, che ha parlato con uno e si è messo d'accordo, dice, vi mando i soldi con un altro palermitano, ha preso un altro palermitano, c'era quello a Milano e gli ha fatto avere i soldi. Questo palermitano era amico del senatore, boom! Che significa? Che il soggetto che era sceso a Palermo, a Catania, per conto del proprietario della standa, era un senatore, finisco qui, non aggiungo altro sull'identificazione, è Rina che parla autonomamente, spontaneamente. Ebbene, in questo processo, come avete avuto modo di verificarlo, noi non abbiamo considerato i collaboratori attendibili apioristicamente, ovvero per sentenze che già hanno riconosciuto l'attenuante della collaborazione. Abbiamo sempre cercato dei riscontri e alla luce di questi riscontri valutare la loro attendibilità. Vediamo se è vero, come dicono i collaboratori catanesi, come dice Rina, se il senatore è sceso mai in quei giorni precisi in Sicilia, a Catania. Il 26 maggio del 1990, il senatore dell'Utri, secondo gli accertamenti, io tutto indico, del test del Bonferraro della DIA, l'udienza del 13 gennaio 2017, è giunto a Catania, il 27 è ripartito per Milano, circostanza che si è ripetuto il 23 e il 24 giugno del 1990. Il 15 giugno e il 16 giugno 1991 è ritornato a Catania ed è riportato, è rientrato poi il 16 giugno a Milano, il 16 maggio del 1992 giunge a Catania, il 17 maggio 1992 riparte per Milano, ma anche il 24 maggio, il 7 giugno del 92, il 23 dicembre del 92, nella stessa giornata è rientrato a Milano. Dunque, quei pazzi scriteriati dei collaboratori di giustizia e quell'uomo che non vale nulla come Salvatore Rina, perché ormai si vuole dire questo, quando parla nelle intercettazioni è un mezzo rincoglionito. Quando invece bisogna riempirsi la bocca sulla lotta alla mafia, Rina, eh ma era il capo, noi l'abbiamo messo a 41 bis, abbiamo fatto la lotta alla mafia. Eh no, bisogna avere un'oniformità di giudizio, o il rincoglionito o il capo. Ebbene, dunque Dell'Utri si è recato a Catania almeno due volte nel 1990 e proprio nei mesi di maggio e giugno, cioè in epoca successiva agli attentati alla standa del Catanese, per poi ritornarvi ancora nel giugno 91 e parecchie volte nel 92, guarda caso quando i collaboratori catanesi dichiarano essersi chiusa la vicenda. I collaboratori sapevano degli accertamenti sui viaggi di Dell'Utri, ma, ma, ma perché abbiamo tanto sottolineato questa vicenda della standa? È perché, signor Presidente, signori giudici, la vicenda della standa costituisce la chiave di lettura per gli avvenimenti futuri, perché deve essere inquadrata con la finalità di ricercare amicizie che poi torneranno estremamente utili a Cosa Nostra per gli anni 92-94, in una fase delicata e di transizione, con importanti mutamenti politici ed istituzionali. Un obiettivo inserito nel più ampio contesto dell'ambizioso progetto di Cosa Nostra di rinnovo delle proprie grandi alleanze strategiche e politiche, obiettivo che Cosa Nostra intende raggiungere mediante i rapporti di forza e più spesso mediante il linguaggio della violenza, vera o sublimata. Ascoltate, è in questo grado, lungo questo stesso percorso, che si inserisce il messaggio forte e fragoroso inviato a Milano con gli attentati standa di Catania. Minaccia e violenza per cercare il contatto. Ci si aspetta risposta, ci si aspettano delle reazioni, ci si aspetta che qualcuno si faccia sotto per ricontrattare i termini degli accordi già stipulati, per assumere maggiori impegni nei riguardi dell'organizzazione mafiosa, per essere garanti del futuro di Cosa Nostra. E' questo che emerge dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori. L'istruzione dibattimentale ha provato che tale composizione della crisi a Catania si è determinata grazie all'intervento dell'imputato dei lutri, che dopo una serie di incontri con i vertici della famiglia di Catania, ancora una volta confermata dalle parole di Rina del 22 agosto del 2013, ha veicolato a Berlusconi il messaggio connesso agli attentati alla standa e in cambio, improvvisamente, gli attentati sono cessati senza apparente motivo. Ebbene, la vicenda della standa di Catania nei primi anni 90 costituisce il tipico modus operandi di Cosa Nostra, che si avvale di Delutri per trasmettere a Berlusconi il messaggio intimidatorio, per costringerlo, nel caso di specie del 90-91, a pagare, circostanza che si ripeterà nel 1994, quando Berlusconi assumerà l'incarico di Presidente del Consiglio. La vicenda della standa, insomma, ha consentito a Cosa Nostra di saggiare la totale disponibilità e soprattutto l'affidabilità dell'imputato Delutri, presupposto indefettibile per la rinnovata iniziativa di Cosa Nostra anche per la fine degli anni 93, inizio 94. In tal caso, la nuova sequenza per mantenere la tensione, intimidazione e minaccia è servita per il mantenimento del patto, perché Berlusconi non facesse come avevano fatto i salvo e lì. Sono le parole di Bagarella che vi ho letto all'inizio, i politici che avevano deluso. Sul ruolo di Delutri nel dialogo a distanza con i vertici di Cosa Nostra per questo segmento temporale, le fonti di accusa sono principalmente rappresentate dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, che hanno riferito sui contatti tra l'esponente dell'organizzazione mafiosa Vittorio Mangano e l'imputato, e fra quest'ultimo è l'onorevole Silvio Berlusconi, destinatario finale delle richieste dell'organizzazione mafiosa. Tra le principali fonti di accusa nei confronti di Delutri si pone innanzitutto la propalazione accusatoria di Giovanni Brusca, resa all'indulenza dell'11 e 12 dicembre del 2013. Brusca ha fatto un primo riferimento, il sono veloce su questo profilo, alla figura di Delutri che aveva fatto la sua comparsa nella primavera del 1992, quando dopo l'omicidio dell'onorevole Lima e prima della strage di Capaci, erano stati attivati i contatti con Salvatore Rina da parte di Vito Ciancimino e appunto Marcello Delutri, i quali, secondo quanto riferito di Delutri, si erano fatti sotto, proponendo la Lega di Bossi e un altro soggetto politico che si stava formando. Brusca ha ricordato di avere di concerto con Bagarella incontrato Vittorio Mangano a Palermo, in un ufficetto di quest'ultimo, o forse più probabilmente a Partinico, designandolo a seguito dell'arresto nella primavera del 1993 di Cangelli che si era consegnato alle forze dell'ordine, i carabinieri in particolar modo, dicevamo Bagarella e Brusca avevano designato Mangano a reggente del mandamento di Porta Nuova proprio in sostituzione di Cangelli, quindi un ruolo di primo piano. Successivamente a questo incontro, mentre si trovava la titante, in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli del settimanale ed espresso, che evidenziavano i risalenti rapporti tra Delutri e Vittorio Mangano, ha concordato con Bagarella di convocare Mangano al fine di avvicinare Delutri. Ha avuto, in un arco temporale molto breve, diverse riunioni con Mangano, la presenza di Bagarella e, in una di esse, in una stalla di Partinico di tale Cangellosi, ricordate questi nomi, queste date precise, Brusca aveva incaricato Mangano di riallacciare i contatti con Delutri per arrivare all'Onorevole Berlusconi. Brusca allora ha esternato a Mangano le richieste da avanzare, prima fra tutte l'attenuazione del regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziale, ma non anche la revoca che risultava impossibile da ottoniere a causa dell'eccessivo clamore che sarebbe scoppiato e comunque chiedeva la provocazione di legge o decrete di legge che avrebbero nel tempo svuotato il contenuto del carcere duro e soprattutto concesso benefici penitenziali ai detenuti per mafia. Si trattava di una interlocuzione che nell'immediato era finalizzata a raggiungere questi obiettivi, ma che si prefiggeva, dice Brusca, di instaurare nel tempo uno stabile rapporto con questo nuovo canale politico per riavviare la trattativa e venire incontro alle esigenze di Cosa Nostra. Brusca aveva rivelato a Mangano il contatto, la trattativa avviata da Rina nel 92, precisando che di ciò che era accaduto nel 1992-1993 ne era a conoscenza anche la sinistra della democrazia cristiana che era in quel periodo al governo, alludendo, dice Brusca, all'onorevole Mancini, senza indicarlo nominativamente a Mangano e che tale informazione poteva essere utilizzata, strumentalizzata da Dell'Utri e dal suo gruppo politico, visto che in quel periodo era stato accusato di essere uno dei mandati delle stragi. Brusca aveva rivelato a Mangano la responsabilità di Cosa Nostra per le stragi del 93, spiegando che le stesse erano servite a riattivare quel canale che si era interrotto, al fine di far ritornare lo Stato a trattare con il famoso papello e quindi la responsabilità di Brusca e Bagarella nella prosecuzione della strategia stragista a partire dal giorno dopo dell'arresto di Rina. Ricorderete la frase di Brusca, ricordata da Brusca di Bagarella, che quando incontra Provenzano che è tutubante, perplesso, mettiti in cartella al collo, io con le stragi non c'entro, laddove invece Brusca e Bagarella insistevano per questo. In tal modo Brusca aveva voluto responsabilizzare con tale incarico Mangano, precisando che questo era rimasto particolarmente sorpreso per quanto appreso nel corso di quei colloqui. Brusca aveva invitato Mangano a esercitare nei confronti di Dell'Utri una forte pressione, in modo da suscitare un grande timore, riportando il messaggio che se non si fosse messo a disposizione avrebbero proseguito nella stragione stragista realizzando altri attentati, oltre a quelli verificati sia a Firenze, Roma, Milano, tant'è vero che era in programmazione l'attentato allo Stadio Olimpico a Roma. Mangano, raccolto l'incarico, aveva confermato il contenuto degli articoli del settimanale L'Espresso, nonché la persistenza dei rapporti con Dell'Utri e Berlusconi, sebbene avesse interrotto, su richiesta di confalonieri, il rapporto lavorativo presso la residenza di Berlusconi e si fosse allontanato da Arcore per evitare polemiche. Mangano si era dichiarato estremamente disponibile, oltre che molto soddisfatto per l'incarico affidato, sia per una sua questione personale e vedremo fra un po' la ragione di questa soddisfazione personale, sia per agevolare Cosa Nostra sostenendo di poter contattare Marcello Dell'Utri. Non molto tempo dopo, comunque non dopo non oltre 10-15 giorni, Mangano aveva portato la risposta, riferendo di aver incontrato Dell'Utri nei locali di un'impresa di pulizie che lavorava per la Fininvest. Ricordate tutti questi dettagli, perché saranno oggetto di un accertamento a riscontro, che è il metro di valutazione dell'attendibilità dei collaboratori. Dell'Utri si era messo a disposizione, impegnandosi ad agire per le loro possibilità, infine aveva ringraziato per il riferimento alla sinistra della DC che sapeva delle bombe del 93. Mangano aveva aggiunto che era fiducioso di incontrare personalmente Berlusconi in occasione di un prossimo comizio a Palermo per le politiche del 94, segnatamente, anche qui sarà oggetto di riscontro, in uno scantinato di un ristorante del quale non ricordava il nome ma che si trovava sulla circomballazione. Il collaboratore ha ricordato che in una di queste occasioni aveva regalato a Mangano della carne macellata, provento di un furto di animali realizzato dai fratelli vitale di Partinico e danno dell'allevatore Toia. Anche questo è un dato importante che ci aiuta per storicizzare l'episodio. Brusca ha precisato che gli incontri molto frequenti con Mangano in quel frangente temporale erano proseguiti sempre a Partinico, probabilmente nella distilleria di Giovanni Bonomo poco distante dalla stalla di Cangelosi, nonché in un'abitazione a Villagrazia di Carini nella disponibilità di Mangano. Abitazione a Villagrazia di Carini nella disponibilità di Mangano. Altro dato preciso. Ancora Brusca ha ricordato che in quel periodo erano soliti accompagnarlo alle suddette riunioni Domenico Racuglie, Ignazio Trenni e soprattutto Giuseppe Monticciolo, che fungeva da suo braccio destro consentendoli di gestire il territorio di San Giuseppeato e organizzando gli incontri con gli altri esponenti mafiosi, tra cui Leo Luca Bagarella, quale messaggero per disposizione nei confronti dei figli di Rina. Brusca ha narrato altresì l'incontro, dopo l'arresto di Caraviano, con Gaspare e Spatuzza, che era stato formalmente combinato uomo d'onore e designato alla reggezza del mandamento di Brancaccio. Il collaboratore, infine, ha rievocato le confidenze a metà del 1995 di Spatuzza, a commento delle notizie di un giornale relativa alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia afferenti il fallito attentato allo Stadio Olimpico a Roma. In tale occasione, Spatuzza aveva dichiarato che in tale azione delittuosa, che per Giuseppe Graviano sarebbe stato il colpo di grazia, sarebbero dovuti morire molti carabinieri per vendetta, perché li avevano presi in giro, non avevano mantenuto le promesse. Spatuzza aveva precisato che per l'attentato era stata preparata un'autobomba e bottiglia di tritò, tondini di ferro e bulloni, per arrecare quanto più danno possibile ai carabinieri. La programmazione di tale attentato, successivamente all'arresto di Diel Bagarella, gli era stata confermata da Matteo Messina Denaro, che però non gli aveva riferito di un'azione di vendita ai danni di carabinieri. Ma quel progetto finalizzato ad ottenere benefici, comunque, per avviare i contatti, era stato proseguito da Cosa Nostra. E allora, valutiamo l'attenibilità di Brusc. In maniera sintetica vi ho indicato le dichiarazioni, sottolineando alcune circostanze che servono per datare questi incontri, ma soprattutto per vedere se ci sono dei riscontri, se Brusc si è inventati, se ha raccontato Fandomi. E perché, perdonatemi, se uno si ricorda che ha dato della carne a un soggetto a seguito in realtà di un furto di animali e c'è quei riscontri, beh, l'attenibilità è forte. Se il collaboratore ci riferisce che ha incontrato Mangano in una casa a Villa Gratti di Carini, guarda caso Mangano, vedremo se è vero, ha quella casa, beh, è forte. E allora, non dimentichiamo che Bruscano è quel esponente di primo piano di Cosa Nostra che ha condiviso e contributo a realizzare la strategia stragista dell'organizzazione. E poi l'ha confessata, l'ha raccontata, il primo che ci ha parlato del paperino. E allora, andiamo ai riscontri così come sono stati rappresentati dai testi Galetta e Bonferrar della Dia. Brusca era latitante nel periodo di quegli incontri, lo sappiamo, dal fine del 93 fino al 20 maggio del 96. Era latitante anche Bagarella, dalla fine del 93 fino al 24 giugno del 95. Vittorio Mangano, nel periodo tra la fine del 93 e l'inizio del 94, ovvero al momento dell'incarico di Brusca, era libero dal 22 giugno del 90 sino, lo sarà, al 4 aprile 95, quando viene tratto in arresto e detenuto a Termini Meresi. Quindi non era detto, visto i dieci anni di carcere che aveva fatto Mangano, che in quel periodo potesse essere libero. Il settimanale L'Espresso ha effettivamente pubblicato dal marzo 93 fino all'aprile del 94 una serie di articoli relativi ai risalenti rapporti di Vittorio Mangano con Marcello Dell'Utri e tra quest'ultimo è Silvio Berlusconi, documenti acquisiti all'udienza del 26 settembre del 2013. In particolare meritano di essere segnalati gli articoli dell'11 marzo del 94 e dell'8 aprile del 94. Poi vedremo perché. Cangelosi Antonino risulta effettivamente titolare di una stalla incontrata a San Carlo a Borgetto. Guarda caso, è vero. Lo stesso è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 18 aprile del 94. Il processo l'ho fatto io, personalmente. È stato ucciso in quella stalla. Giovanni Bonomo risulta effettivamente titolare di un'azienda di imbottigliamento di vino incontrata in Gastone a Pattinico. Giuseppe Lobianco, esponente della famiglia mafiosa di Pattinico e per tale motivo condannato con sentenze irrivocabile, risultava effettivamente titolare di un'abitazione a Pattinico incontrata a San Carlo, dunque a brevissima distanza dalla stalla di Cangelosi, ci hanno detto i testi della DIA. Toia Giuseppe ha subito il furto di Trevitelli l'8 ottobre del 93 in una stalla di Pattinico incontrata a Milione. Voi vi rendete conto? Brusca, questo dettaglio del furto, a mio ricordo, l'ha indicato sforzandosi nella memoria per la prima volta in dibattimento. O Brusca aveva il mattinale dei furti di Pattinico di animali dal 1993 o ha ricordato una data precisa? E se guardate la coincidenza, capita esattamente questo furto nel momento in cui lui ha dichiarato essere avvenuto l'incarico. Se il furto fosse avvenuto tempo dopo, Brusca, era inattendibile, era inattendibile. E invece esattamente in quel periodo, e questo accertamento è di fondamentale importanza, poi vedremo per quale motivo.